Bene, grazie, un ringraziamento agli organizzatori e a tutti i presenti. Questa lezione magistrale ha una tesi di fondo che enuncio subito, ovvero sia che la caratteristica fondamentale, anche iconologica, che inerisce la fortuna, cioè il suo essere sfuggente ed imprendibile, vale anche per quanto riguarda il regno del concetto e in particolare è evidente questa caratteristica di inafferrabilità per quanto riguarda la questione della separazione fra la fortuna, ovvero sia il caso da una parte, e l'ordine, ovvero la necessità, la legge dall'altra. Questa separazione è oggetto dello sforzo più che bimillenario della filosofia e particolarmente della metafisica antica e della metafisica moderna e tuttavia questa separazione è sempre smentita. Attraverso un resoconto intellettuale di alcuni modi del rapporto fra la fortuna e la necessità vedremo come oggi questo rapporto viene declinato e quale significato ha per noi. Non di meno, prima di arrivare all'oggi, mi tocca, ci tocca ripercorrere l'arco della riflessione occidentale intorno a questo che è il problema principale e primo della filosofia. Il primo modo attraverso il quale è stato trattato il rapporto fra la evanescenza delle cose del mondo e la necessità tutta umana di trovare una fissazione di tale evanescenza. Il primo modo lo definiamo sapienziale e lo attribuiamo alla filosofia che a scuola si chiama presocratica che di questo propriamente parla tanto in Anassimandro quanto in Eraclito il cuore della riflessione sta nella inseparabilità del caso dalla necessità, anzi sta appunto nel precipitare del caso nella necessità. Il caso è necessità. In Eraclito ad esempio più che celebre frammento 52, quello del tempo che è un fanciullo che gioca con i dadi e dunque ciò rende il mondo il regno di un fanciullo, la casualità assoluta. Il mondo è giocato ai dadi da Aion. Ebbene questa assoluta casualità è già fin dall'inizio dell'opera di Eraclito, dal frammento primo, definita all'interno di una necessità. Tutto accade secondo Logos. Caso e necessità sono la stessa cosa. Anassimandro aveva praticamente aperto la riflessione occidentale, la forma stessa del filosofare attraverso quel frammento che è tutto ciò che di lui conserviamo e che tuttavia ha ancora una inesausta profondità, quel frammento in cui si afferma che Genesis e Fthora, l'origine e la distruzione delle entità hanno la medesima origine e il medesimo fine e si svolgono katatoch reon, secondo necessità. Anche in questo caso Genesis e Fthora, il divenire, la forma universale del divenire, il non essere umano del mondo, lo spettacolo del quale siamo partecipi della nascita e della morte è, nella sua casualità, tocreon, il necessario. La tragedia poi ha trasformato tutto ciò, questa idea del caso come necessità, l'ha trasformata nell'idea della invincibilità di ananche della necessità rispetto alla quale la capacità umana di operare è sempre infinitamente più debole. Una citazione soltanto dal Prometeo incatenato di Eschilo, la tecne umana è molto più debole della necessità. Prima di entrare nel momento invece metafisico, cioè nel momento in cui la filosofia vuole impadronirsi del caso, non si accontenta di definirlo necessità, ma lo vuole domare con la ragione, una osservazione sul fatto che in realtà questo pensiero del caso come necessità, ovvero sia della fortuna come di una dea invincibile, inesorabile, cioè che non può essere pregata e invincibile, questo è sostanzialmente parte integrante dell'ideologia del mondo romano, dove fortuna è certamente una dea, fortuna è certamente una dea che deve essere pregata e che deve essere pregata attraverso una specifica preghiera che è lo stare insieme della virtus e della pietas, qui abbiamo una lunga serie di citazioni possibili da Livio, che naturalmente risparmiamo. In Virgilio, allo stesso modo, fortuna viene superata ferendo, cioè sopportandola, probabilmente c'è un gioco etimologico tra fortuna e ferendo. in Orazio, in una ode, l'ode 35 del primo libro, la fortuna, la dea fortuna, viene descritta come preceduta, come in un corteo, viene preceduta dalla necessitas, per cui qui è tutto chiaro, la fortuna è necessità, la necessità è ministra della fortuna, fa ciò che la fortuna le dice di fare, sostanzialmente, sono la stessa cosa. E la necessità ha un aggettivo con sé, che è seva, secondo altre lezioni è severa, ma fa lo stesso, osserva, vuol dire sempre la stessa cosa, cioè qualche cosa di assolutamente crudo, crudele, e infatti la necessità che apre il corteo della fortuna porta con sé gli strumenti di tortura, i chiodi che servono a crocifiggere. La necessità può essere pregata, la necessità, non di meno, è il vero attore sulla scena mondiale. Tutto ciò, questo confluire di caso e di necessità, la loro indistinguibilità, genera, in un contesto filosofico non metafisico, come quello dell'epicureismo e dello stoicismo, una posizione che è tipica e molto durevole, che è quella, secondo la quale, la coincidenza di caso e necessità c'è e non c'è nulla da fare, e tuttavia il saggio, il sapiente, il filosofo, è capace di sopportarla, poiché, secondo il celebre motto, non externa cogunt deus, la divinità e la scintilla di divino che è nell'uomo non può essere sottoposta a coazione da forze esterne all'uomo, per cui la necessità e la fortuna sono la stessa cosa e governano le cose del mondo, ma l'uomo forte e sapiente rispetto a ciò di cui non ha controllo non ha nemmeno passione, è capace di resistere. Tutto ciò è una risposta relativamente forte alla questione del caso e della necessità e del loro coincidere, ma non è per nulla forte a fronte dell'altro modo, quello che adesso vengo ad esporvi, il modo metafisico, cioè l'inserzione del tema caso e necessità all'interno dei due poderosi dispositivi teorici approntati l'uno da Platone, l'altro da Aristotele, il primo, quello che distingue l'idea e l'apparenza, l'essere e il divenire, il secondo, quello che distingue l'essere in quanto essere, dall'essere secondo la accidentalità. Questa è la chiave grazie alla quale la filosofia ha voluto risolvere una volta per tutte la questione della fortuna, che è la questione della non-umanità del mondo, della non-razionalità del mondo, della imprendibilità concettuale del mondo. La risposta filosofica è il mondo è prendibilissimo, basta saper distinguere fra ciò che in esso vi è di vero e di necessario e ciò che in esso vi è di non vero, apparente e contingente. Ciò che è vero e necessario è perfettamente conoscibile attraverso l'apposito addestramento dal filosofo. E tutto quello che non è vero e necessario è irrilevante. La chiave dell'universo è nelle nostre mani. Tutto quello che è degno d'essere conosciuto lo possiamo conoscere. A questo serve la filosofia. A questa specie di diciamo delirio di onniscienza che è poi anche di onnipotenza. Questa è la scommessa, è la posta in gioco. Quando Platone nel sesto libro della Repubblica, che è quello dal mio punto di vista centrale per questa vicenda, dice che Genesis e Thora, guarda caso, riprende per l'appunto i termini adoperati da Nassimandro, sono il divenire. Adesso, a questo divenire, contrappone quello che lui chiama usia a eiusa, l'essenza eterna. E l'essenza eterna è quella che i filosofi amano ed è quella che i filosofi conoscono. Niente divenire, dunque. Ciò che vi è diconoscibile è. E la polemica contro il divenire è allo stesso titolo polemica contro la necessità. Sempre in quel libro sesto della Repubblica, Platone, in un celebre passaggio sul cosiddetto grosso animale, dice che i sofisti sono come quelli che possedendo un grosso animale credono di conoscerlo perché ne conoscono quelli che noi chiamiamo oggi gli istinti riflessi. Cioè, sanno dire, guarda, quando ha fame emette un certo suono, se lo pungi si comporta in un certo modo. Ma questi sono comportamenti necessari, cioè assolutamente meccanici e automatici che non hanno niente a che vedere in questa loro necessità materiale con la vera essenza di quel grosso animale. Chi tratta in questo modo quel grosso animale non lo conosce, ne conosce soltanto le reazioni esterne. Dunque, tanto il divenire quanto la necessità non sono la chiave per aprire il segreto della razionalità dell'essere. La chiave è invece la teoria delle idee. Aristotele nella metafisica riprende con potenti modificazioni questo progetto e dopo aver detto che la scienza è conoscere attraverso le cause nel primo libro, nel quarto appunto opera la distinzione fra essere in quanto essere e essere per accidente. On e on e on katasimbebekos. nel quinto libro ci spiega che la conoscenza è un risalire la catena delle cause e se si risale la catena delle cause tutta intera si ha perfetta conoscenza di qualche cosa che è necessario mentre invece l'accidentale è qualche cosa la cui conoscenza si ferma molto presto lungo la catena delle cause cioè è qualche cosa che ha in sé una minore causazione insomma l'accidente ciò che è per accidente il caso ciò che è per caso vale meno è meno conoscibile dopo tutto ha meno essere anche se per Aristotele l'essere ce l'ha e dunque da questa gerarchia che la metafisica istituisce segue anche la gerarchia dei saperi ovviamente e qui abbiamo un passo della poetica di Aristotele e naturalmente al primo posto c'è la filosofia che è un tipico vezzo dei filosofi mettere la filosofia come scienza regina che conosce gli universali secondo necessità all'ultimo il più basso c'è la storia perché la storia conosce tasum bebecota gli accidenti cioè ciò che è capitato ad Alcibiade dice per esempio ciò che è capitato a Tizio ciò che è capitato a Caio e in mezzo ci sta la poesia la poesia che è un po' più universale della storia perché invece che trattare ciò che è capitato a Tizio e Caio almeno tratta i caratteri i tipi umani il conflitto fra le facoltà non nasce con Kant il mondo cristiano è sostanzialmente erede della trattazione metafisica naturalmente deve cambiare qualche cosa prima di tutto deve affermare che la fortuna non esiste e a questo ci pensa Agostino ci pensa Agostino in un importante passaggio del De Civitate Dei nel quarto libro nel settimo libro nel quale passaggio Agostino che non dimentichiamo mai era un romano dunque parlava di se stesso della propria civiltà non parlava di qualche cosa di remoto Agostino che dice la fortuna non può essere una dea perché ha un'essenza assolutamente irrazionale e non premia per nulla il merito dunque il fatto che non sia meritocratica cioè che non abbia una logica nel suo operare dimostra che ha meno essere di chi beh di Dio il quale Dio si ha in mano l'accadere universale delle cose dell'universo appunto attraverso evidentemente la provvidenza e allora e allora il fatto che molte cose che ci capitano ci sembrino irrazionali questo fatto evidentemente nasce da una nostra debolezza umana dal fatto che non riusciamo a capire il disegno della provvidenza e questo perché c'è il peccato perché c'è il minor essere dell'uomo dopo il peccato originale tutto ciò detto nel linguaggio assolutamente lucido di Tommaso suona così ordo divine providenzie exigit quod sit casus et fortuna in rebus l'ordine della provvidenza divina esige che ci siano nelle cose di questo mondo un elemento di casualità e di fortuità e grosso modo questa linea è la linea di Dante che fa della fortuna la ministra della provvidenza in alcuni canti due canti il settimo il quattordicesimo dell'inferno soprattutto il mondo moderno che è tanto diverso certamente dal mondo che lo ha preceduto tuttavia nel mondo moderno nella sua pienezza cioè nel razionalismo politico moderno che è quello dentro il quale noi viviamo quello che ha generato le categorie politiche grazie alle quali noi pensiamo e le categorie politiche che sono divenute le istituzioni dentro le quali noi abitiamo questo mondo moderno porta alle estreme conseguenze il desiderio di controllo di comprensione e di controllo sulla casualità del mondo che è già presente nella metafisica classica lo porta alle estreme conseguenze e lo ruota tutto intorno al soggetto non solo ma ha la pretese nel mondo moderno che il controllo sul caso sulla fortuna sia al tempo stesso razionale cioè si esprima come sapere e abbia immediata efficacia pratica e non solo per il filosofo la cui libertà consiste nella contemplazione della necessità ma per tutti in modo tale che il controllo razionale sul caso la decifrazione del caso la sua trasformazione in necessità sia la trasformazione del caso in una necessità tutta costruita dall'uomo e questo è lo stato moderno così come appare al pensiero di Hobbes che dà come ci mostra come noi come noi pensiamo al caso cioè esattamente come caos e questo è il punto di partenza Hobbes lo chiama col suo linguaggio stato di natura cioè la non umanità del mondo il disordine mortale la potenza del sapere consiste non nel dire ciò è giusto ciò è necessario ma nel contrapporre alla necessità della casualità cioè alla natura una diversa necessità che noi chiameremo tanto per chiarirci indispensabilità e questo è la costruzione razionale delle istituzioni che rendono il mondo umano che rendono il mondo controllabile che rendono il mondo prevedibile da questo punto di vista la filosofia politica moderna nel suo mainstream razionalistico non è niente altro che una forma sempre più elaborata e complessa di assicurazione sulla vita di allontanamento del caso e di istituzione della necessità come prodotto umano la necessità come prodotto umano è la legge che serve a ridurre tendenzialmente a zero il caso è un pensiero che io definirei prosastico è la prosa della modernità è la prosa borghese che vuole legge e ordine naturalmente c'è una componente filosofica di esaltante bellezza perché per arrivare a ciò Hobbes ha bisogno di dimostrare cosa che lo riempie costantemente di gioia quanto Aristotele si sbagli e dal nostro punto di vista è interessante un passaggio del quinto libro del Leviatano in cui si mostra che la ragione non è il calcolo delle cause perché Hobbes è un nominalista dunque non c'è una catena di cause che sale fino al cielo degli universali no no la ragione è il calcolo delle conseguenze cioè la ragione è ragione strumentale serve non è la scienza regina la filosofia no no è una scienza servile tecnico pratica serve a qualche cosa a creare il mito dell'uomo moderno che non è per niente prometeico nel tredicesimo capitolo del Leviatano prometeo viene descritto come un poveretto che a furia di guardare lontano non vede altro che guai e rovina l'uomo moderno deve guardare vicino no il mito dell'uomo moderno è la sicurezza che è per l'appunto l'opposto della fortuna e la sicurezza è il prodotto di una tecnica cioè di un sapere efficace per molti punti di vista questo è la modernità dentro la quale noi siamo cioè un tentativo una volta tanto di tenere separato il caso dalla necessità e la necessità ce la facciamo noi naturalmente il mondo è un pochino più complicato e in parallelo a questa modernità ne conosciamo un'altra molto più divertente molto meno efficace che parlando di fortuna nell'ambito politico è evidentemente quella di Machiavelli la quale ha come caratteristica fondamentale quella di dare sostanzialmente per scontato adesso non possiamo entrare in un'analisi precisa del settimo libro del settimo capitolo del principe che è quello che Machiavelli destina alla trattazione del grande figlio della fortuna cioè Cesare Borgia il duca Valentino ma vi è in quel capitolo una serie di contraddizioni proprio interne che mostrano come Machiavelli non sia in grado di rispondere forse non si pone nemmeno con chiarezza la domanda se esiste un algoritmo di razionalizzabilità integrale della politica insomma il duca Valentino perde perché ha commesso un errore e dunque se non l'avesse commesso avrebbe potuto assicurare il proprio stato oppure perde nonostante sia bravissimo e perché a un certo punto nemmeno un uomo bravissimo virtuosissimo e prudentissimo e feroce cioè determinato può adattarsi al variare dei tempi Machiavelli è incerto fra queste due risposte c'è un errore dunque se fosse stato più bravo non si sarebbe sbagliato dunque è possibile che un uomo bravissimo non si sbagli mai dunque che trasformi la politica in questo caso non in un'opera della scienza ma in un'opera d'arte è possibile però al tempo stesso quasi contraddicendosi da un capoverso all'altro si dice nonostante tutti gli argini che si possono opporre a quel fiume impetuoso che è la fortuna nonostante la si possa afferrare e battere come si deve fare con le donne nonostante si debba essere più impetuosi che rispettivi nonostante tutto ciò beh alla fine ci sarà qualche cosa per cui perderai perché non riuscirai mai ad adattare te stesso al mutare dei tempi esiste un divenire che travolge l'uomo e questo fa della politica qualche cosa di perennemente incompiuto cioè privo di quella forma razionale geometrica la sovranità dentro i suoi confini che invece è il sogno moderno del Cotè o Bessiano qui la politica è compiuta finita formalizzata è scienza della politica il Leviatano è un manuale di costruzione di un edificio qua Machiavelli la politica è perennemente incompiuta è uno sforzo titanico che io paragono alle grandi opere incompiute di Michelangelo per far vedere che c'è qualche cosa che va oltre la forma che la forma è povera rispetto alla potenza del divenire e che insomma esiste una sconnessione tra il finito e l'infinito che non si può colmare una sconnessione fra l'uomo e il mondo questo messaggio non umanistico non umanistico di quel superumanista che era Machiavelli perché nonostante questa sconnessione la tesi di Machiavelli è ma si deve continuare si deve continuare a tentare di battere la fortuna l'effetto necessità è al di là di Machiavelli che non lo prevede non lo può prevedere è nell'età moderna sempre più potente progressivamente sempre più potente in Hobbes l'effetto necessità è ancora nominato come artificio indispensabile lo Stato non è necessario nel senso che esso ci sia e non possa non esserci no è necessario nel senso che esso è straordinariamente utile indispensabile alla vita è una necessità umana quella che è contenuta nello Stato cioè nella necessità che si oppone alla casualità ma l'effetto necessità aumenta nel corso dell'età moderna adesso bisogna essere relativamente veloci ma insomma già in Spinoza la contingenza è esplicitamente negata sotto il profilo ontologico non c'è nulla di contingente la contingenza siamo al capitolo alla proposizione 29 della prima parte dell'etica la contingenza è un modo è una parola che non deve essere non deve essere adoperata perché tutto ciò che esiste è la necessità della sostanza e dei suoi modi ed esiste sempre e comunque ed è sempre percorribile la infinita catena delle cause Hegel per altra via ottiene il medesimo risultato in Hegel c'è da una parte la divinizzazione della contingenza cioè l'idea che lo spirito abita veramente nel mondo certo e tuttavia questo salvare la contingenza assume in Hegel la caratteristica di un poderoso effetto necessità tale per cui sia pure con lo sguardo retrospettivo tipico del filosofo speculativo si giustifica si trova la ragione di tutto il divenire della storia e in questo trovare la ragione c'è sempre qualche cosa che cade e che era giusto che cadesse come in essenziale voi lo vedete questo in modo più chiaro che in Hegel più evidente politicamente in Marx dove l'effetto necessità è pauroso addirittura cioè esiste una mega macchina moderna si chiama capitale produce necessariamente il proprio superamento dunque non c'è nulla di avventuroso e non c'è nulla di casuale nel sapere scientifico e nella pratica politica che vi si adegua e poi ci sono dei resti dei rottami della storia che non merita nemmeno prendere in considerazione questi non sono i borghesi che sono tutt'altro che resti e rottami sono gli artefici del mondo moderno nel momento in cui scrive Marx sono i portatori dello spirito per adoperare un lessico hegeliano no ciò che cade perché ormai ha finito di fare il proprio di svolgere il proprio compito sono ceti superati che so io gli aristocratici i latifondisti il lumpen proletariato tutto ciò è lo scarto della storia dunque qualche cosa sta capitando dentro l'età moderna che nasce come affermazione della ragione umana capace di contrastare il caso cioè di trasformare il mondo in qualche cosa di umano di razionale più passa più passa il tempo lungo l'età moderna più l'età moderna diventa matura più cresce un effetto necessità che alla fine beh alla fine trasforma la sicurezza in necessità e il controllo del mondo sopra la trasforma in casualità del mondo ovvero ossia a un certo punto dello sviluppo e sono le ideologie che hanno vinto nella prima metà del ventesimo secolo a un certo punto dello sviluppo dell'età moderna il massimo di razionalità è diventato il riconoscere il massimo di necessità nella storia del mondo e nell'accettare tutto ciò che in nome di quella necessità veniva svolgendosi e accadendo e dunque sostanzialmente nel divinizzare tutto ciò che capitava compreso il cadere fuori di un discreto numero di persone per i quali veramente non vi era alcun controllo su questo mondo per i quali la mega macchina razionale impiantata dall'età moderna non era altro che una nuova figura una nuova forma di ananche abbiamo descritto in questo modo le esperienze totalitarie dunque questa è una poderosa dialettica una poderosa contraddizione nel tentativo di tagliare distinguere decidere separare la casualità e la necessità il disordine dall'ordine la contraddizione per cui il massimo di ordine che si afferma massimamente necessario si abbatte sull'umanità come una potenza naturale inesorabile il corso della storia travolge ma vi è una seconda contraddizione dentro l'effetto sicurezza moderno che questo effetto sicurezza è un ombrello pieno di buchi semplicemente al di là del fatto che si rovescia in esso stesso in casualità necessaria come era necessario andare di pari passo di caso necessità secondo un filosofo pressocratico c'è un secondo aspetto che quello sbarramento di fronte alla casualità quell'incapsulamento dell'uomo in un mondo protetto semplicemente non è mai riuscito tutti se ne sono accorti nel bene e nel male chi se ne è accorto prima di tanti altri è Shakespeare vi sono alcune delle principali opere di Shakespeare che sono per l'appunto la riflessione sulla sconnessione fra l'uomo e il mondo Hamleto è un testo piuttosto difficile da comprendere perché ha come oggetto propriamente lo spezzarsi dell'asse del mondo ed è una riflessione aperta chiara dichiarata proprio sulla fortuna e come è noto Hamleto non sa che cosa fare contro la fortuna non sa se è meglio subire i dardi e le frecce dell'oltraggiosa fortuna oppure prendere le armi contro di esse è paralizzato altro che orgogliosa sicurezza dell'uomo moderno non solo ma dopo questo accenno al monologo della prima scena del terzo atto tutto il dramma nel dramma del secondo atto la seconda scena del secondo atto è pieno di intercalari contro la fortuna che viene definita strumpet prostitute cioè qualche questo è in realtà una modalità classica di definire la fortuna la sconnessione in Hamleto è veramente debolezza così come in Macbeth è furore no? ricordiamo la quinta scena del quinto atto quando Macbeth esclama sentita la notizia della morte della moglie la vita è un'ombra che cammina un povero commediante che si pavoneggia e si agita sulla scena del mondo una favola raccontata da un idiota piena di rumore e di furore che non significa nulla questa è la fortuna e questa ancora una volta è vittoriosa dunque in pieno rinascimento già si sa che gli argini alla fortuna che gli algoritmi razionalistici non funzionano ma quella sconnessione quella sconnessione che resta nonostante il tentativo moderno di far tornare i conti ha anche un valore estremamente positivo assume un nome kairos il caso non è soltanto la distruzione dell'ordine è anche kairos cioè l'attimo cioè quel tempo opportuno che va afferrato per costruire qualche cosa di umano è la congiunzione del soggetto e del tempo momentanea certamente non una disgiunzione catastrofica il caso proiettile che trapassa l'ombrello della modernità non è soltanto un elemento di debolezza è anche la forza tutti i grandi politici si sono sognati di essere Napoleone cioè qualcuno capace di costruire qualche cosa afferrando la fortuna nell'attimo in cui essa si presenta hanno sempre rifiutato il mondo prosastico della statualità hanno sempre rifiutato la sicurezza la prevedibilità delle istituzioni il grande politico è quello che vede nel mondo non l'ordine ma l'anomalia non l'ordine ma il caso e non se ne lascia schiacciare e afferra il caso per creare un ordine proprio naturalmente per un Napoleone che qualche cosa ha creato abbiamo un bel mucchio di esempi appunto di personaggi che si sono creduti Napoleone e che hanno naturalmente prodotto molti più disastri di quanto abbiano prodotto ordine e tuttavia chiunque faccia politica sul serio in grande stile e non sia privo di immaginazione deve non può non pensare alla fortuna come a qualche cosa che è un'occasione da afferrare non solo ma la presenza del caso in età moderna ha anche un'altra caratteristica non è soltanto distruttiva come in Shakespeare non è soltanto energetica come nella teoria politica del Kairos ma è anche costruttiva della soggettività il caso la varietà e la casualità e la molteplicità degli incontri di ciò che ci succede è la via attraverso la quale si costruisce il soggetto moderno in ciò erede della forma medievale della avventura l'avventura era per l'appunto il partire all'avventura l'andare alla ricerca poniamo del graal nel mondo in età moderna la stessa forma avventurosa impregna di sé quello che si chiama il Bildungsroman il romanzo di formazione il soggetto crea se stesso passando attraverso la molteplicità delle degli incontri questo vale dalla fenomenologia dello spirito che è un Bildungsroman a Pinocchio che è un Bildungsroman fino a Kerouac on the road è un Bildungsroman l'avventura che noi teniamo fuori vorremmo tenere fuori dalla politica è la forma attraverso cui il caso costruisce la soggettività ad esempio nella letteratura dunque non c'è solo la sconnessione c'è una connessione non nel segno della necessità ma nel segno della libertà l'ultimo esempio letterario di questa connessione del caso e della necessità l'abbiamo in Goethe Goethe attraverso la dimensione dell'attimo della Augenblick fa un'operazione che è sostanzialmente la redenzione di Machiavelli che cosa vuol dire vuol dire che quando Faust vede l'umanità laboriosa che lotta contro le onde del mare e costruisce gli argini sullo Swidersee allora guardando questi uomini sicuri no ma attivi e liberi dice quella frase che è l'espressione della sua felicità cioè dell'attimo in cui il soggetto si ricongiunge col mondo e che esprime anche il momento della sua morte no? fermati attimo sei così bello e allora sulla base del patto che aveva fatto con Mephistofele muore e intanto Mephistofele sghignazza perché dice ma va là sei proprio sciocco non solo hai fatto il patto con me ma hai ceduto la tua anima e adesso me la piglio ma poi cosa credi il mare se le mangerà queste terre non credere guardate che proprio l'immagine dell'argine è quello che mi ha fatto pensare a Machiavelli bene Faust muore poi avviene avviene la redenzione di Faust la sua anima viene strappata dagli angeli ai diavoli e il povero Mephistofele perde e maledice l'attimo dice verflucht sabentheuer maledetto l'attimo in cui gli angeli mi hanno sconfitto l'incompiutezza dell'opera davanti alla quale Faust dice fermati attimo sei bello è un tema Machiavelliano la lotta dell'uomo contro il mondo non finirà mai Faust ha ragione quando dice il mare si riprenderà quelle terre eppure Faust che per quella lotta ha dato l'anima perché vedendo quella lotta 炎 si è compiaciuto e ha ricongiunto sé nell'attimo al mondo Faust non perde la propria anima come Machiavelli era dispostissimo a fare pur di ottenere il successo politico Faust viene redento Faust finisce in paradiso dunque esiste una sconnessione positiva fra il caso e la necessità moderna dunque non è vero che lo Stato è soltanto una l'unico modo che noi abbiamo per far fronte alla necessità ne abbiamo altri non così escludenti non solo dunque sono questi letterari di cui abbiamo parlato non solo ma il ventesimo secolo mediato da Nietzsche il ventesimo secolo ha fatto ancora di più cioè ha pensato non la la politica non più nella forma dell'esclusione del caso ma ha pensato la potenza della politica proprio a partire dal caso dunque non soltanto ha demandato alla letteratura ha demandato alla grande arte il compito di fronteggiare la fortuna ma la politica si è fatta carico in proprio di trasformare gli assetti istituzionali da difese contro il caso in modi di sfruttare del caso l'energia non posso parlare di Nietzsche per motivi di tempo ma i due i due esempi politici li voglio accennare sono l'uno Schmidt e l'altro Walter Benjamin tra l'altro molto vicini anche sotto il profilo dei rapporti l'uno il primo Schmidt è il teorico della decisione sul caso d'eccezione qui il caso entra in primo piano fin da subito ed è l'elemento su cui si costruisce la politica invece che la politica invece che essere il sistema difensivo rispetto al caso è costruita su di esso caso d'eccezione naturalmente dal caso emerge l'ordine grazie alla decisione sovrana perché non ci meravigliamo quell'ordine che emerge dal caso grazie alla decisione sovrana non è propriamente l'ordine statale di tipo obessiano e poi post-obessiano cioè liberale cioè non è un ordine giuridificato è un ordine giuridico orientato ovvero sia è un ordine che ha al proprio interno un disordine operativo cioè è un ordine che non considera tutti uguali è un ordine che dal nostro punto di vista ha dentro di sé un potente disordine e tuttavia la grande risposta decisionistica alla crisi dello Stato liberale cioè alla crisi dello Stato come difesa dell'individuo dal caso e dalla fortuna Stato liberale che era già a pezzi agli inizi del XX secolo la grande risposta decisionistica è proprio questo dice se vuoi lo Stato non puoi allontanare il caso d'eccezione lo devi volere il caso d'eccezione avrai uno Stato non liberale ma almeno quello lo avrai Walter Benjamin che ribalta Carl Schmitt apertamente l'ottava delle tesi sulla filosofia della storia di Benjamin la tradizione degli oppressi ci mostra che la storia nella storia il caso di necessità il caso di emergenza qui la parola è notfall è la regola tutta la storia è stata costruita sopra l'ingiustizia sopra la diseguaglianza tutta la storia dell'umanità è la storia della casualità e della necessità della casualità dice Benjamin bisogna costruire la diciottesima tesi bisogna costruire il vero caso d'eccezione il vero caso d'eccezione è quell'attimo il tema dell'attimo è in Goethe nel Faust ed è in un celeberrimo passaggio dello Zarathustra di Nietzsche esiste l'attimo lo sanno gli ebrei esiste l'attimo in cui quella porta in quella porta stretta che è l'attimo si incunea il Messia con la sua violenza redentrici che redimerà tutta la storia di cattiva causalità e di cattiva necessità della casualità e sarà una vera nuova eccezione un blitz io non posso proseguire negli esempi novecenteschi di utilizzazione produttiva del caso uno sarebbe montale tutta la poetica di montale è costruita sopra le nozioni di contingenza di attimo di sconnessione delle dell'ordine e sull'idea che attraverso quella sconnessione balugina a tratti una verità ulteriore che può anche essere la non verità radicale dell'esistenza novecento è questo è la deformazione radicale della forma moderna che cercava di tenere sotto controllo razionale la fortuna non è soltanto catastrofe ma è anche potenza produttiva letteraria potenza produttiva politica con tutti i limiti che la politica affidata all'eccezione naturalmente ha nella seconda metà del ventesimo secolo tutto ciò è scomparso dall'orizzonte della politica la seconda metà del ventesimo secolo è caratterizzata in occidente da quello che si chiama il compromesso social democratico è caratterizzata dall'elevazione al cubo della dimensione della sicurezza tipica della politica moderna lo stato sociale è questo stanchi di avventure in politica stanchi di eccezioni ci siamo dati alla prosa più grigia che è quella di far andare d'accordo la confindustria con i sindacati attraverso la mediazione del governo e di costruire le strutture dello stato sociale che sono strutture di sicurezza la politica della seconda metà del ventesimo secolo è contro l'avventura basta pensare alla rabbia con cui il partito comunista definiva qualcuno avventurista basta pensare allo slogan della democrazia cristiana nelle elezioni del 1958 che per chi non se lo ricorda era progresso senza avventure ne avevamo avute già abbastanza di avventure no? di uomini che volevano afferrare il kairos di superamenti eccezionali del grigio mondo liberale non c'è assolutamente nulla di male noi siamo ancora dentro siamo ancora dentro all'idea che in politica è meglio non fare scherzi e che la prevedibilità è meglio della imprevedibilità e che se qualcuno vuole vivere alla grande lo vada a fare a spese proprie non a spese di una nazione siamo ancora dentro e non c'è proprio nulla di male all'idea che è degno dell'uomo vivere in un mondo a misura d'uomo e dunque è misurabile e prevedibile naturalmente si perde un po' di pathos e ricorrentemente e ricorrentemente in modi diversi una volta si sarebbe detto ogni generazione prova a correre una qualche avventura io parlo per la mia la generazione del 68 questo fece sostanzialmente questo volle al contrario però al contrario noi oggi assistiamo ancora una volta e con ancora maggiore evidenza al fatto che proprio nel momento in cui abbiamo deciso basta con le avventure l'intera macchina della nostra società le sue strutture politiche le sue strutture economiche si ribaltano contro di noi e appaiono come un ordine necessario ma non umano e dunque un ordine del tutto casuale si chiama globalizzazione questo è l'esperienza nostra come voi capite sto concludendo l'esperienza nostra quotidiana che noi viviamo in un mondo che è stato fatto da noi prodotto da noi come avendo come obiettivo quello di escludere il caso dalla nostra vita sociale e meno che mai dalla nostra vita politica ovviamente e noi abbiamo esperienza che questa esclusione fallisce sia perché torno a dire lo scudo è tutto bucherellato e la casualità passa da tutte le parti sia perché quello scudo si rivolge contro di noi come se noi fossimo qualche cosa di assolutamente accidentale ci passa sopra il nostro sistema di ordine è per noi disordinato e casuale la vita razionale dell'uomo è ancora molto lontana dall'essere qualche cosa che è a nostra disposizione e alla nostra portata e non perché non sia nelle nostre categorie le nostre categorie politiche sono tutte orientate verso la sicurezza cioè verso l'idea che dobbiamo e vogliamo vivere in un mondo di cui abbiamo il controllo cioè in un mondo in cui non c'è la fortuna tutte fin troppo direi e proprio perché non abbiamo alcuna altra immaginazione rispetto a queste e ci affidiamo completamente a queste strutture che non siamo capaci di leggere nella casualità che ogni giorno aumenta Bauman lo chiama rischio ma è la stessa cosa il tasso di casualità che l'età globale ha fatto esplodere quel tasso di casualità per cui non è più vero la promessa dello Stato moderno cioè dentro il mio perimetro una certa quantità di casi non possono capitare noi quel tasso di casualità lo vediamo sempre e soltanto come rischio come minaccia e dunque cerchiamo di rendere sempre più forti le difese ciò che separa il caso dalla necessità ciò che separa il disordine dall'ordine bisogno di sicurezza la richiesta di sicurezza nelle forme più semplici sicurezza contro il diverso nelle forme un po' più sofisticate sicurezza vogliamo la riforma e la ricostituzione in buona sostanza dello Stato sociale vogliamo prevedibilità per la nostra vita e per quella dei nostri figli tutto ciò che è assolutamente umano e degno tutto ciò è talmente presente nella nostra mente talmente presente nella nostra diciamo così agenda politica che non c'è più spazio per una considerazione positiva dell'elemento della casualità la costruzione della soggettività attraverso il caso non l'accettiamo più non accettiamo nemmeno cosa che invece potremmo fare di leggere come casuale la casualità che ci circonda leggerla come casuale vuol dire semplicemente non accettarla come naturale come necessaria dare alla nostra vita casuale nostra e di chi sta anche molto peggio di noi dare alle nostre vite casuali il nome che esse si meritano cioè ingiustizia risalire un po' la catena delle cause non accettare la casualità come qualche cosa che ha a che fare con ananche con la necessità riconoscere nel funzionamento casuale della macchina razionale che abbiamo costruito riconoscere una casualità cioè una correggibilità ecco l'avventura che sarebbe da correre oggi sarebbe proprio questa di combattere contro l'elemento casuale della casualità dentro la quale siamo immersi e questo non per ritornare ad una idea di politica tutta quanta costruita intorno alla ferrea necessità umana no per ritornare o forse per andare per la prima volta eliminata l'ingiustizia e la casualità dell'esistenza per andare verso una buona casualità una buona casualità vuol dire una politica un sistema di ordine capace di fare ordine di eliminare gli elementi di casualità ingiusta e di consentire la crescita lo sviluppo il fiorire si dice in filosofia politica delle singolarità ciascuno delle quali è intrinsecamente plurale intrinsecamente casuale intrinsecamente votata ad esprimere una potenza interiore che si chiama libertà questo è il nome della buona casualità che però può fiorire soltanto all'interno di una buona necessità alla ricerca della buona necessità cioè del buon ordine e della buona casualità cioè del libero fiorire delle differenze infinite che siamo noi del libero fiorire della vita questa ricerca sarebbe ciò che ci porta verso quella che un grande filosofo del tardo settecento tedesco Herder definiva il giardino dell'umanità il vasto campo nel quale fioriscono non i cento fiori maoisti ma i milioni di fiori dell'umanità finalmente libera dalla cattiva necessità e dalla cattiva casualità vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie